Distanze tra lettini e ombrelloni, mascherine e prenotazioni. La stagione balneare è nastri di partenza e dopo chiusure, mini lockdown, gli stabilimenti si stanno rinnovando per accogliere fanesi e turisti. Dopo i mesi estivi del 2020, difficili da gestire sia dal punto di vista logistico che economico, gli operatori si preparano ad affrontare la nuova stagione. Ma ora quanto monta la perdita di fatturato dello scorso anno? La perdita che abbiamo avuto lo scorso anno è stata determinata dal fatto che abbiamo avuto una perdita di ombrelloni, determinato dal fatto che c'è stato un allargamento degli spazi. Pertanto in alcune spiagge è derivata una perdita del 15%, in altre anche del 30%, nelle spiagge di maggiore affluenza. Inoltre, come ci spiega il presidente interprovinciale di Oasi Confartigianato, anche quest'anno dovrebbe essere applicato il protocollo sanitario dello scorso anno. Dunque le regole rimarrebbero le stesse, anche se l'associazione di categoria ha chiesto qualche modifica. Sul riportare i metri quadri degli ombrelloni a 10 metri quadri, quando adesso il protocollo prevedeva 10 metri quadri e mezzo, ma questo solamente per il fatto che lo scorso anno abbiamo avuto delle problematiche, soprattutto nelle zone centrali, per una mancanza di ombrelloni. Quindi gli ombrelloni da mettere a disposizione anche al comparto alberghiero e quindi turistico. Pensa che si potranno organizzare delle iniziative all'interno degli stabilimenti o anche questo sarà vietato dal protocollo? Al momento i protocolli della regione sono stati riconfermati come erano lo scorso anno e pertanto anche le restrizioni. Se poi in corso della stagione la situazione arriva a tal punto di migliorare, di poterci permettere di fare anche gli eventi, noi siamo sempre pronti. In conclusione qual è l'umore degli operatori balneari? Sono pronti, sono fiduciosi? Il nostro umore è carico, è molto carico, siamo tutti pronti, siamo tutti fiduciosi, alla grande perché comunque ci crediamo tanto, la gente è stata anche noi stessi, siamo stati chiusi in casa un anno, c'è tanta voglia di ripartire, c'è tanta voglia di stare all'aria aperta e c'è tanta voglia di ritornare a socializzare con le persone, per cui siamo tutti a correre nelle attività per rimetterle in ordine e farle ripartire, rimetterle a posto per essere pronti quando ci verrà dato l'ok per ripartire. Grazie. Grazie.